Amiche e amici di Rossini TV, bentornati a Casa Rossini in questa nuova stagione che ci vede in edizione slim se vogliamo, in edizione veloce nella quale abbiamo un ospite appuntata, l'ospite di oggi è una conoscenza già dei nostri telespettatori e di Rossini TV, Giovanni Arduini titolare dell'arte del riposo, buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora Giovanni bentornato, sei già stato con noi, abbiamo inaugurato, infatti sono andato a rivedere, abbiamo inaugurato la prima puntata della prima stagione nel lontanissimo, ormai 16 novembre, insomma dai, pre-covid. Esatto, esatto, esatto e dopodiché insomma c'è anche tornato perché abbiamo avuto di nuovo ospite, perché vogliamo sapere sempre da te cosa sta succedendo nel mondo del riposo, questa arte del riposo è densa di novità perché uno pensa, dice sì, riposare, uno prendeva a dormire e ha risolto, dormi tutta la notte, la mattina ti svegli, in realtà non è proprio così, ce n'è insomma, ce n'è. Ma ce n'è, ce n'è tanto, come diceva l'altra volta, non è che un materasso va bene a tutti, riposare è molto soggettivo in base alle problematiche fisiche, la fisicità anche a livello di peso, di postura, tante cose. Per questo io come produttore, ma anche altri produttori abbiamo una vasta gamma che può variare da diversi materiali, diverse portanze, diverse tipologie insomma. Allora, non diamo tutto per scontato come faccio io ogni tanto, perché soprattutto quando mi ritrovo con qualcuno che ormai è diventato amico, perché quando ci si comincia a vedere più e più volte e poi magari ci si riguarda in replica e tutto il resto sembra che ci sia una frequentazione, esatto, di conoscersi chissà quanto e anche con i telespettatori a casa, invece non diamo niente per scontato e vogliamo ricordare bene, allora tu sei titolare dell'arte del riposo, l'arte del riposo è qualcosa di particolare, di unico perché nasce da una produzione, per cui soprattutto tu hai un'attività di produzione artigianale che è molto importante, ma l'intuizione qual è stata? La ricordiamo perché a me è piaciuto sempre, dalla prima volta che me l'hai detto, l'intuizione è stata ok, di solito chi produce poi va a vendere facendo delle piccole esposizioni, dei momenti di presenza nei centri commerciali, nelle fiere e nelle più diverse occasioni. Poi a un certo punto, gira, 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 la riflessione è stata ma se io faccio in modo invece di andarci io che qualcuno possa venire direttamente nella mia sede? E hai aperto questa sede bellissima. Ho aperto questa sede in strada Montefeltro, che tra l'altro un mese fa con la ricorrenza dei due anni della prima apertura l'abbiamo ampliata. Ma già era enorme. Prima erano 250 metri quadri, oggi sono 430 metri quadri, ma perché questo? Perché abbiamo ampliato la gamma dei prodotti materassi, in più abbiamo ampliato la gamma di letti. Allora siccome, come tu sai, l'azienda artigiane ci cerca di collaborare, io ho la collaborazione con degli artigiani locali, per cui parliamo di alcune poche centriali di metri dal mio capannone, con scambio merce, collaboriamo. E allora abbiamo fatto questa cosa in collaborazione, che abbiamo messo una vasta gamma di letti, dipologie, singolo, matrimoniale, piazza e mezzo, col contenitore, il contenitore, da far toccare con mano, perché il problema qual era? Tu fai vedere le foto, ma però dal vero lo posso vedere perché tutti vogliono toccare, tastare. Poi magari non ha un fine, ma vederlo che c'è per le persone è importante, per cui abbiamo fatto con questo amico, Filippo si chiama, abbiamo fatto questa cosa, abbiamo messo giù questi, adesso abbiamo più o meno una trentina di letti montati, tra letti in ferro e letti imbottiti, da poter far toccare con mano, vedere con mano. In più abbiamo un'esclusiva, ci hanno dato un'esclusiva all'azienda più grande al mondo, a livello di numeri, a livello di fatturati, ma è anche l'originale certificato NASA, quelli che tutti cercano di invitare dicendo quello della NASA, ma questo è quello certificato NASA originale, come esclusiva di vendita, ci hanno onorato, dice voi siete, tra virgolette, professionisti e vi diamo la possibilità solo a voi di vendere, noi penso che nelle Marche siamo solamente tre, nelle Marche, in Italia siamo, mi sembra, non so se arriviamo a 20 punti vendita, 20 sui visti di questo prodotto qua. Sarebbe il letto, il matrasso degli astronauti? Allora, la NASA ha sviluppato insieme a questa azienda il prodotto, quello che tutti chiamano memory, ma che loro chiamano materiale tempor, perché in realtà per distinguerci da quello che è la massa memory, che c'è di tutto e di più, loro si chiamano materiale tempor, praticamente è quello che hanno sviluppato per poter contenere la dilatazione, le vasi sanguine nelle tute degli astronauti al momento del lancio, perché con la pressione il sangue che diffusce dal cervello, va alle vene e perdono conoscenza, come possiamo fare, ma si parla degli anni 60, hanno fatto questo materiale che è l'unico, ma poi con dei test in grado di assorbire la spinta senza contrapporla e adattandosi, per cui non si dilatavano più le vene, non si dilatano più le vene alle braccia, alle gambe, rimane nel sangue al cervello e gli astronauti non perdono conoscenza. E questa tecnologia viene trasferita in una tipologia di materassi del quale voi avete l'esclusiva... Noi abbiamo l'esclusiva di vendita, abbiamo, tra l'altro sono dispositivi medici internazionali, neanche solo italiani, come c'erano molti, per cui sono un po' più veritieri, come c'erano dispositivi medici, e considera che la formula di questo materiale la conoscono solamente 10 persone al mondo. È come la Coca-Cola? Come la Coca-Cola. Sono le formule segrete, insomma. Non la danno nessuno, ce l'hanno solamente loro, ce l'hanno, ma io ho avuto modo di fare un test con il loro prodotto e con tutti, per virgolette, i memori esistenti in commercio di mia conoscenza, vuol dire tutte le aziende produttiche in Italia, non ce n'è uno, che ha le proprietà di questo, dici come fanno? Non lo so, però è veramente unico. Per cui diciamo che con questa tu completi una gamma che ovviamente in gran parte è la tua produzione, e sulla tua produzione dubbi non ci sono, la tua produzione va avanti con tutte le innovazioni, naturalmente anche lì fai degli studi, lanci dei nuovi prodotti, in più c'è questa idea dei 450 metri nei quali è come un catalogo dal vivo. Sai qual è il problema che tu dicevi prima del toccare? è che quelli che fanno i cataloghi, sono diventati molto bravi, fanno delle foto bellissime, le mettono in un modo che poi alla fine uno dice ma saranno vere, allora fammi andare a vedere per davvero. È successo questo. E tu hai creato questa situazione nella quale è un po' l'idea del catalogo live, per cui uno viene, trova in pratica, tocca con mano, e trova tutto, si può anche stendere sopra? Si, perché tutti i letti sono con le dati di materasso, possono provarlo direttamente a stendere, stendere tutto quanto e questa qui è la parte, quella della tua produzione, quella poi tra l'altro che si rifà un po' a una specie di cultura un po' antica, noi vivendo nel territorio del mobile, un po' cosa ci veniva in mente sempre, vado a comprarlo in azienda, vado in fabbrica, c'era un po' questa cosa, io conosco, vado in fabbrica. È ancora così, ma in questo caso te li hai anticipati. L'unico problema è che c'è una piccola difficoltà oggi, confronto agli anni passati, che è quella delle normative per la sicurezza, tu non puoi far entrare persone dentro il tuo stabilimento, se una persona brava, buona, quello che vuoi, viene dentro, vuole provare il tuo materasso, ti scivola, ti cade dentro un'azienda, valla a spiegare poi come funziona. Esatto, per risolvere questo problema tu già da diversi anni hai attivato questo canale di vendita tuo, poi a questo punto l'hai esteso e per completare la gamma ci metti dentro anche il Tempur, ma viene anche qualche astronauta a provarlo, no? No, non ci danno astronauti, però è un bel prodotto, diciamo che è un prodotto uniche che crede, poi tra l'altro considera, sì costa perché è un materiale costoso, è un materiale che con 60 euro al mese è realizzato e lo paghi, quindi non è un costo di quelli dici in proibitivi, è un costo di una cena, insomma, è un'altra mese e te lo paghi. Certo, per cui anche nell'ambito, diciamo, come posso dire, della tua economia complessiva il prodotto non cannibalizza gli altri prodotti, cioè non ti toglie i clienti, sono dei target diversi. No, allora, sono due forbici di vendita, due cose diverse, il mio materasso va da un minimo massimo, perché è un prodotto fatto di fabbrica, per cui diciamo che quello che in un negozio normalmente costa 2000 euro da me ne costa 1000, 1200, per cui già il mio prodotto costa meno. Questo qui va oltre a questo discorso qua, perché è un prodotto molto particolare, per cui o lo ami e lo sposi, oppure dici no, io voglio spendere poco, voglio materassino economico e va su un'altra cosa, ma sono delle cose completamente diverse, una non discute l'altra, non è che si vanno a fare la guerra, perché hanno delle caratteristiche molto simili, cioè non è che in quello dormi bene e nei miei o di un altro dormi male, ma quelli diciamo hanno il valore aggiunto che è un prodotto al di sopra degli altri, capito? Poi la riflessione imprenditoriale probabilmente è stata anche se non lo prendo io, lo prende qualcun altro, per cui è meglio che ce l'ho io. No, perché in realtà c'era qualcun altro che ce l'aveva, ma ne l'hanno tolto tutti, l'hanno tolto, in realtà c'erano altri che ce l'avevano, diciamo qui in zona o poco lontano da qua, ma hanno fatto una scelta loro proprio per poter dare, siccome è un prodotto di qualità, è come dire concessionario Ferrari, tu non trovi concessionario ogni città, no? Dici, in Italia ci sono 5 concessionari, poi ci sono 10 concessionari, tu bisogna che capito loro, loro dicono, noi abbiamo la Ferrari del materasso, siamo consapevoli, abbiamo le carte per dimostrarlo, bisogna che i nostri divenditori lavorino tranquillamente, per cui ce n'è uno qua, ce n'è uno a Cesena, ce n'è uno a Bologna, capito? C'è distanza uno dall'altro, proprio perché è un prodotto che non avrebbe senso averlo come il tabaccaio. E oltre che questo, gratificante nei confronti tuoi come imprenditore, è una garanzia nei confronti della tua clientela, perché chiaramente la tua clientela sa che te sei stato scelto anche sulla base di quelle che sono le caratteristiche tue da imprenditore, da produttore. Dopo 38 anni di esperienza il corso è stato riconosciuto, diciamo così, in questo modo. E adesso poi vediamo, vediamo questa strada che non è finita qua, non è finita, perché i progetti sono tanti, si evolveranno nel tempo. Bene, bene, bene. Rimanendo sul presente, te hai sempre qualche iniziativa per movimentare il mercato, qualche bella novità. In questo momento stiamo facendo il fuori tutto, che finirà a fine ottobre, per poter noi, per non fare, invecchiare il prodotto in esposizione, periodicamente, proprio a breve stretto giro di tempo, li svendiamo. È un'occasione perché li compra, perché un matrasso che è stato lì un mese, massimo due in esposizione, solo per farlo vedere. Poi noi abbiamo tutte le precauzioni, quando lo facciamo provare, abbiamo i teli, ognuno si mette il suo telo, per cui non si sporca, è l'occasione che uno lo parla. Poi tanto prima di riuscire viene risanificato. Sì, viene riportato l'azienda, viene risanificato, viene dato, ovviamente è nuovo, ma noi per evitare proprio che si invecchino, che poi dopo diventino inutilizzabili, preferiamo agevolare il cliente finale, poi stiamo facendo altre promozioni, stiamo studiando, da qui a fine anno altre promozioni, mensilmente, lo sconto comunque quello c'è sempre, che è uno sconto importante, almeno del 50% dal prezzo di vendita al pubblico normale, per cui hai un buon risparmio, se uno paragona qualità-prezzo non ce n'è per nessuno, se uno vuole, viene solamente col fatto di dire perché per televisione o perché su internet c'è, non siamo noi, noi ti diamo un servizio, una qualità, te lo portiamo a casa, te lo mettiamo sul letto, te lo mettiamo, per cui non è il corriere che arriva e scarica, qui c'è la chiocciola, per cui diamo un servizio completo, diamo un servizio completo, anche poi di consulenza perché a molte volte quando ci sono persone che non sono in grado di potersi spostare per motivi fisici, motivi di età, di raggiungerci, andiamo noi gratuitamente a prendergli le misure, a vedere se il letto è adonio, cosa è meglio per loro, quando consegniamo proprio il fatto che noi lo portiamo sul letto, molte volte facciamo notare al cliente che hanno una struttura che ha qualche difetto che loro non si erano accorti, per cui devono prendere precauzioni ma per loro dormire ma anche per il costo del materasso, per cui non ci fermiamo a fare i venditori, diciamo io vendo tanto per vendere, noi interessa che il cliente ci metta la recensione e ci dica bravi, puntuali, seri e non ah sono dei briganti, mi hanno dato il materasso, me l'hanno portato, sono spariti, sono dei problemi, cioè quello non deve esistere perché essendo piccoli, locali, sai che... Quando mi hai raccontato di questo fatto del sopralluogo mi aveva molto colpito, come viene recepito, cioè c'è gente che lo chiede, il sopralluogo preventivo prima di fare la scelta? Guarda, più che altro persone di una certa età, perché il giovane è più brillante, usa gli strumenti che abbiamo, dice guarda non c'è problema, ti mando un whatsapp, faccio la foto a letto, faccio la foto a letto, le persone un po' più grandine hanno più difficoltà, adesso c'è una signora che mi ha chiamato, ho un letto in ottone che avrà minimo 35 anni, dove sopra c'è una rete di 35 anni fa, deve cambiare, nessuno è in grado di cambiare la rete, hai detto ah no signora qui c'è un attacco particolare, cioè guardate le foto, la signora si fa, bisogna smontare le facce del letto, io glielo smonto, le porto nel mio fabbo, le faccio modificarle, metti una rete nuova, veramente si può fare, come di tutti dicono si può fare, questa è la differenza tra un rivenditore e uno che lavora sul posto. Un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso mentre ti ascoltavo, cioè voi non utilizzate i corrieri che prendono il porto, andate voi, questo è, adesso con tutto il rispetto per i corrieri che fanno il loro lavoro, ma voglio dire è comunque una parte importante del lavoro, perché nel momento in cui voi andate, se poi sul posto c'è qualcosa che non va, voi siete in grado subito di intervenire. C'è innanzitutto una continuità, una continuità che è quella del momento che tu arrivi, arrivi in un'azienda di persone, per cui le stesse persone dell'azienda vengono, si affidano a un corriere che va di fretta, signora io devo andare via, tu glielo porti, c'è il discorso di prima, la continuità della consulenza, perché non abbiamo fatto consulenza solamente quando l'abbiamo acquistato, ma anche quando l'abbiamo consegnato, a volte capita purtroppo che alcune persone arrivano là, voglio il materasso in misura X, tu glielo porti, vedi che è stretto, è corto, perché, ah ma non è misura normale? A quel punto, visto che sei tu, cosa puoi fare? Tu dici, vabbè signora, guardi, ci organizziamo, lo portiamo via direttamente, siamo noi, per il corriere invece ti dice, te lo tieni, poi chiama l'azienda, ti arrangi, capito? Cioè, è un discorso di collaborazione col cliente. Ed è una delle armi vincenti, secondo me. Aiuta, aiuta molto, perché vediamo che i clienti che vengono, che hanno fatto altri giri, hanno fatto altre preventive, altre richieste, ci riconoscono il fatto che noi siamo eserostivi nelle spiegazioni, siamo disponibili, molti vengono a fare, ah sono andato, ma effettivamente non mi hanno spiegato niente, mi hanno detto questo, 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 quale le piace, quel costa X, c'è finito, capito? Invece noi, le ragazze che lavorano con me, le mie collaboratrici, sono preparate, istruite, sanno come spiegare il prodotto, come consigliarlo in base alla persona che torna davanti, insomma. Mi manca solo di telefonare la mattina dopo e dire, ha dormito bene, com'è andata? Facciamo anche quello. Ah sì? Abbiamo fatto anche quello, abbiamo fatto anche quello, ma non la mattina dopo, perché col materasso nuovo tu cambi il modo di dormire, che è il meglio sicuramente. Io faccio sempre l'esempio del busto, tu hai problemi di schiena, ti mettono nel busto, tu i primi giorni ti fa male, ma non è che ti fa male perché hai sbagliato, perché ti rimetti in una posizione corretta, per cui tu quando cambi il materasso, qualsiasi materasso metti, se non trovi le prime notti un po' di difficoltà, vuol dire che non hai fatto un bel lavoro, perché se tu torni a dormire come dormivi prima, vuol dire che cos'è cambiato, cos'è cambiato a fare il materasso, capito? Perché tu devi avere uno scompenso, che normalmente una settimana, 10 giorni ci vogliono per abituarti, dopodiché dici, io non lo cambierei più, noi lasciamo, lascevamo, perché poi si fa questa cosa qui, perché parzialmente non tutti sono felici di essere contattati, pensano che sia una violazione della privacy, ma in realtà per noi era solamente una cortesia per dire, c'era tutto a posto, ha problemi, non perché volevano fare chissà che cosa, era solamente una forma di cortesia era. Certo. Giovanni, ci avviamo alla conclusione del tempo e anche come stagione al periodo che va verso il Natale, verso i regali, io direi che sarebbe quasi da far capire che un materasso può essere veramente un bel regalo da farsi per Natale. Da farsi, da fare, perché poi ci sono, come ripeto, tante possibilità di scelta, tante possibilità di pagamento, diciamo così, noi abbiamo finanziamenti tasso zero, latizzati, per cui anche se la cifra uno può spaventare, dice adesso mio figlio avrebbe bisogno ma spendere x euro, c'è la possibilità di fare un pagamento diverso in modo che non pesa nessuno e si sistema una situazione che magari non è il massimo, insomma. Certo. Per cui possiamo il guanciale, il coprimaterasso, abbiamo tante cose, capito, che possono essere simpatiche da regalare ma utili, non un regalo che metti lì e poi non serve più. Voi siete aperti nel punto vendita e prova sempre? Noi siamo aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.30, escluso domenica mattina e lunedì mattina, per cui anche sabato, tutto il giorno e domenica pomeriggio siamo aperti. Per cui insomma scuse per non fare un passaggio non ne avete, l'indirizzo esatto è? Strada, Motifeltro, 49, secondo piano, in alto, ma se alzare gli occhi si vede il secondo piano è molto evidente, di fronte al Media World e al Toys, uno se passa a strada Motifeltro, alzare gli occhi proprio se lo vede, poi se vai al Toys e al Media World, se è alzare il parcheggio non lo puoi sbagliare, devi andare avanti però e fare la rotatoria e tornare indietro è molto importante. Torna indietro, è semplicissimo, è semplicissimo, ma poi come dico sempre, chiedere, è metà dell'avere, è gratuito, chiedere un preventivo, un consulto per vedere se eventualmente sono direzionati ad acquistare quello che loro hanno già visionato, se rientra, perché non è che entrano noi, sono obbligati ad acquistare noi, però poter vedere a livello di prezzo, a livello di qualità, se dove loro hanno idea e sono allineati oppure farsi un'idea di cosa possiamo dare noi, poi uno sceglie liberamente, non è che è. Certo, 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 bene, Giovanni ti lascio un secondo per un saluto e per la domanda piacere, se hai qualcosa da consigliare ai nostri telespettatori. Ma io ringrazio tutti i nostri clienti, innanzitutto perché sono il nostro patrimonio, i nostri clienti sono, faccio un invito, venite a trovare, venite a vedere quello che possiamo offrirvi, perché vedrete che abbiamo quello che vi serve. Ne siamo certi, ringraziamo tutti i nostri telespettatori per aver seguito anche questa puntata di Casa Rossini, nuova edizione, stagione nuova, seconda stagione di Casa Rossini, vi invitiamo a restare comunque all'ascolto e in visione di tutti i programmi di Rossini TV e vi diamo appuntamento a una prossima puntata. Giovanni, grazie, buona giornata. Grazie a voi, ci vediamo, buona giornata. Grazie a tutti.